fratelli e sorelle bianconeri nel lavorare a tutti voi una felice e serena pasqua non riesco comunque a farmi passare la rabbia la rabbia l'amarezza per l'ennesima figuraccia e anche in questa giornata di festa di serenità comunque che spero per tutti voi la testa mi va sempre a quello scempio a cui ho assistito e sinceramente ragazzi io sono stato sempre contro gli esoneri sempre è un po come la filosofia della juve in questi 124 anni di storie però a tutto c'è un limite e è ancora possibile centrare il quarto posto che eviterebbe il defo economico è ancora possibile però bisogna intervenire subito 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 ragazzi e ve lo dice uno che è stato sempre contro gli esoneri che il 99 per cento non hanno mai risolto niente ma stavolta la barca è totalmente alla deriva bisogna intervenire mettiamo qualcuno anche spalletti chiunque io io credo che la soluzione sia lippi invece di fargli fare il direttore tecnico di mettere lippi per queste 9 10 giornate mettere lippi subito mettere qualcuno di esperienza per salvare capre e capoli e centrale il quarto posto se no sarà non dico il fallimento ma un ridimensionamento pazzesco senza i soldi della champions siamo veramente quasi alla fine alla frutta ragazzi l'unica soluzione è questa pirlo fuori subito pirlo fuori subito basta esperimenti basta con i terzini a centro campo basta con il calcio cervellotico con le idee strampalate di questo tizio amante della bottiglia è completamente inadeguato completamente mettiamo qualcuno subito per salvare la situazione se no scordiamoci il quarto posto ragazzi scordiamocelo fino alla fine e auguroni a tutti voi